Metti un cross, metti un cross, metti un cross, è difficile che il cross sbaglia ancora. Chiudi, 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 chiudi. Andiamo a chiudere, andiamo a chiudere. Vai, vai Andre. Teniamo la posizione. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Il 5. Chi è che è sbagliato lì, Coro? No, ma lì uno ha sbagliato l'ho chiusura. Non è arrivato Gino, ma è da Luca. No, è una roba veramente, abbiamo preso un gole. La palla recuperata. Vedi com'è? Vedi cosa vuol dire? Vedi cosa vuol dire perdere la palla in fascia? Non succede solo a me. È la maledizione della fascia. Persa la palla in fascia, gol. Per fortuna che c'è anche il baby. Maestro, qua, le palla è perso in fascia. Non succede solo a me. È la maledizione della fascia. Hai filmato il gol? Il loro. La rivediamo a pulino. Sì, sì. Cattivi, cattivi, ragazzi. Teniamo la posizione. Parla! Ti falo! Tu ho quella lì! Grazie.